Ciao, il podcast della dottoressa Angela Cialone, che sta per ascoltare, è consigliato da GP Software. Siamo specializzati in soluzioni per contabilità, fiscale, buste paga, consulenza e revisione. Ringraziamo per lo spazio offerto e per la fedeltà nell'utilizzo dei nostri gestionali. Buon ascolto! I nuovi avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate senza sanzioni e somme aggiuntive L'articolo 5 del Decreto Legge Sostegni numero 41 del 2021 prevede che i soggetti maggiormente colpiti dagli effetti negativi del perdurare della pandemia del Covid-19 possono affrontare più facilmente i pagamenti dei debiti fiscali maturati negli anni 2017-2018. Questo provvedimento riguarda le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, quelli che noi comunemente chiamiamo articolo 36 bis e articolo 54 bis del DPR 633-1972, eseguito sulle dichiarazioni fiscali dei redditi IRAP, IVA, sostituti d'imposta presentati per gli anni 2017-2018. Lo stesso provvedimento riguarda anche i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 e che hanno subito nel periodo d'imposta del 2020 una riduzione maggiore del 30% rispetto al periodo d'imposta 19 come risulta dal volume d'affari oppure dai ricavi e dai compensi. L'Agenzia delle Entrate sulla base di questi volumi d'affari indicati nelle dichiarazioni IVA presentati per i periodi d'imposta 2020 e 2019 e in base alle dichiarazioni dei redditi presentati per i periodi d'imposta 2020 e 2019 dai soggetti che esercitano attività non soggetti a IVA, verificherà la diminuzione di almeno il 30% tra il periodo d'imposta 2020 e 2019. In seguito provvederà all'emissione di questi avvisi bonari senza gravarli di sanzioni e somme aggiuntive. Quindi questi avvisi bonari per i soggetti economici che effettuano operazioni non soggetti a IVA come ad esempio i minimi o i forfettari bisognerà per loro attendere la presentazione delle dichiarazioni dei redditi previste al 30 di novembre del 2021. Di fatto l'elaborazione delle comunicazioni per le definizioni agevolate scaturenti dal confronto del 2020 e del 2019 potrà essere eseguita a partire dal 1 di maggio 2021 per gli operatori economici che svolgono attività soggetti a IVA e a partire dal 1 dicembre 2021 per tutti gli altri. L'agenzia delle entrate invera questi avvisi bonari o tramite PEC o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Questo lo sappiamo. La definizione agevolata si perfezionerà con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, ma resta fermo per il contribuente di potersi anche avvalere della rateazione delle somme dovute. Ricordo che se l'importo dell'avviso è minore di 5.000 euro potrà chiedere al massimo otto rate trimestrali. Se invece l'avviso è maggiore di 5.000 euro con un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Infine, e qui c'è da ricordare, l'articolo 5,6 del decreto legge 41 del 2021 prevede che in caso di mancato pagamento di tutto o in parte delle somme dovute alle prescritte scadenze, si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e procedure di riscossione. Se ti è piaciuto questo podcast iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su fisco e lavoro. Hai domande, curiosità, argomenti da suggerire? Scrivimi al commento sotto questo podcast. A presto!